Terza vittoria nelle ultime quattro partite per Pesaro, i marchigiani battendo in casa Bologna fanno un passo avanti di fondamentale importanza in chiave salvezza, per la Ocnoplast invece un passo indietro dopo il successo nel recupero di mercoledì scorso contro Avellino. Ottima la prestazione offensiva dei Biancorossi che hanno realizzato 101 punti, la Scavo ha piazzato il break decisivo tra il 26esimo ed il 32esimo, 15 a 2 più 17 nel computo generale, poi più 18 a circa 6 minuti dalla conclusione. Straordinaria la prestazione nelle fila felzine di Jacob Pullen, il play ha chiuso con 34 punti in 35 minuti, con 6 su 11 da 2, 5 su 8 da 3 e 8 falli subiti, 16 punti con 6 su 9 dal campo e 2 schiacciate per Gigli. Stesso score per Stephen Smith in casa VL, 6 uomini in doppia cifra, 18 punti, 8 rimbalzi, 6 falli subiti, 3 recuperi e 30 di valutazione per Kinzi, 17 punti con 5 su 9 da 3 per Mech, 16 punti con 4 su 6 da oltre l'arco per Berbur, 13 per Stipcevic, 12 con 5 rimbalzi e 3 assist per Crosariol, 10 punti per Cavaliero. I padroni di casa hanno tirato con il 60% da 3, 17 su 28 ed il 57 da 2, inoltre hanno dominato a rimbalzo più 10, in graduatoria la Scavo sale a 16 punti, la Virtus rimane a 18.